Oppela, oppela, guarda, guarda, oppela, oppela, perché sennò hai... Perché sono morta? Hai tagliato il dito, sei passata col dito sopra il seghetto Ciao dal Shunicorni! In questo video che cosa andremo a fare Andrea? Andremo a allungare le nostre unghie Anche perché io ce le ho abbastanza corte, quindi... Un po' una manicure se la potrebbe fare Allunghiamole dai Guarda che sono belle le mie Ma tu ce l'hai già lunghe? Beh, oddio, veramente le ho fatte accorciare perché erano troppo lunghe Però vedi che sono carine E allora dai, allunghiamole oggi Ma prima di allungarle, salutiamo un dolce unicorno Ah, chi salutiamo oggi? Oggi salutiamo Renesme Amenta Ma Renesme è veramente il tuo nome? Leggi, cosa che poi è Ciao Colini e Andrea, mi potreste salutare in un vostro video Vi adoro, vi seguo da quando avevo 5 anni e ora ne ho 10 Che carina, PS, vi adoro tantissimo Allora, se ti chiami Renesme, intanto ti salutiamo Ciao Renesme, un bacione Un bacione Renesme chi era? Chi era? Io lo so, tu non lo sai? La famosissima, no Figlia Di Bella Di Twilight Twilight, lo sapevo, non l'ho detto per vedere se lo sapevi tu Allora Allora Andiamo Lo sapevo, lo sapevo Ed eccoci qua, guarda che bella, che bell'unghio Che un buon Allora O unghia Tap to play Quindi dobbiamo cercare di fare le unghie belle direi Però non Scusa Non le voglio fare brutte, tanto per farle Le voglio fare belle Ma devi fare più lunghe possibile Beh, ce la posso fare Però io non le voglio fare true Ah, devono essere proprio Colosso Rosso, rosso Eeeh Glitter No, non voglio tagliare altre glitter No, ho tagliato il dito Ah, no Resta, dai, riprova Ma come ho detto, non voglio tagliare, le ho tagliate il dito Vabbè, eeeh, andiamo avanti Ok, rifacciamo Rosso Dai, mi raccomando, non tagliare le dita Glitter Glitter Ma qua mi devo muovere pianissimo Che nessuno verrebbe mai nel tuo salone di bellezza No, non verrebbero mai A farsi le... Ah, attenzione Qua cosa c'è? Ok Eeeh Ah, in base alla lunghezza ti dice cosa hai fatto Ok Allora, non è andata male il mio Vai tu? Bah, vediamo Eeeh, ok, questo sì, no Rosa Attenzione, qua c'è Ah, però non è venuto tutto colorato Ma l'hai fatto veramente bruttissimo Ah, ora l'hai fatto Mamma mia, mamma mia Questo è un po' di rosa Questo qua facciamo azzurro Hai lasciato però le dippe bianche di fondo Eh, vabbè, è la... Uh, però sono arrivato a 75 Scusa, ma per quale motivo? 68% Però si può fare di più E frattempo, a parte proprio la pubblicità Si può fare di più Eh, si può fare o si può dare di più Si può dare Ok allora Allora dai Abbiamo una chiave non so perché Perché abbiamo una chiave Devi tappare prima Dai 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 allunga allunga No zitto che c'è la ruota della fortuna No Allungo 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 il colore Smolto blu allungo allungo Attenzione Però le tippe me le lasciate così Però ti da poche Però 100% Nuovi pattern sbloccati Riscattali o perdili Ma se li riscatta è perché devo vedere il video A me secca vedere sti video Ma qua vogliono farci vedere mille video ragazzi Vediamo questi giochi con le pubblicità Fate free to play è buono Senza pubblicità Ok allora Ah ok Sono quelli che non abbiamo sbloccato Eh vabbè allora possiamo farvi vedere Ma che devo fare? Niente ma non abbiamo niente E l'anello? Tutto a pagamento E quindi niente torniamo indietro E ripartiamo All'anello All'anello Però ho preso l'anello Allunga allunga Tutto pieno di glitter Perché la signori Ah anche si mangia le unghie Tu te le mangi le unghie? È un po' Purtroppo sì No è una cosa sbagliatissima Ragazzi non vi mangia le unghie fa no Attenzione Oh Sì però tu ma scusate ma perché se io le allungo vince lui e io no? Cioè perché lui fa le unghie più belle delle mie? Ma non lo so vediamo prossimo livello livello 4 Allora devo dire che io me la sto cavando però vince sempre lui Vabbè Boh Due dita No vabbè E ora che fai? Con due dita Aiuto aiuto Eh così Tienile perdile No Che è successo? Hai mozzato un dito Hai mozzato Eh devo vedere la pubblicità per tenerlo Ragazzi ma che cosa bruttissima Ma che è sto stupendo? Facciamo un po' e un po' Che stai facendo? Oh ragazza Guarda Oh pella Oh pella I pastelli sono più belli Guarda uno si è togliato un po' Perché doveva fare così? Perché doveva Maria che è lungo Madonna Ma che sta succedendo? Madonna Quanti punti hai fatto? Guarda che bei colori Ma bellissimo 200 dollari Vabbè ma questo è bellissimo 68% di smalto Vabbè Non male Ora forse Più vanno avanti i livelli E più puoi allungare le unghie Ora voglio vedere il prossimo livello Cosa riuscirai a fare tu? Non ce la farò Non ce la farò Allora È il mio è sempre piccolo Me lo do però Vabbè Ma questo me lo da sempre Aspetta aspetta Eh per ora Ora dovrebbe cominciare A crescere No sempre Scusa perché te lo fa a lungo Guarda 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 Ma no Vabbè dai Ma basta Dai fai l'ultimo al limite Basta I'm losing Dai Oh oh che è sta cosa Ma che è Aiuto l'anello Dai 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 Questo secondo me Potrebbe essere bello lungo No le forbici Oh Vedi ma è sempre corto il mio ragazzi Però vuole più bene ad Andrea Sto giorno Ma no Ma sempre i livelli Quelli corti Scusa ora mi sto veramente Cioè Allora questo mi sembra interessante Questo mi sembra come quelli Che ho fatto finora Hai perso due unghie già Ma come mi hai messo il suono Ma scusami Devi essere più veloce Ma che Ma scusa Quando sono più vicini Devi fare tipo come me Tipo così Tipo serpentone Come che devo fare No ma Ma è già finito Americane Là c'è il mio record Ma che delusione Ma perché è sempre corti Niente ragazzi Le devo fare corte Va bene Ora mi sto Ma lì c'è la pubblicità Eh ma per forza Ma ti portano Sulla pubblicità E ti chiedevi andare Per forza qui Altrimenti Altrimenti Perdi le dita Perdi E quindi Complimenti Grazie No Complimenti Niente Ragazzi aspettiamo Tanto voi non aspettate Perché noi tagliamo Ok Oh è partito Maria Ragazzi Mi sono tagliato il dito Aiuto Ma che sta succedendo Ma cos'è Ma non ho capito Io sono in spiaggia Ma perché sono in spiaggia Ma sempre corto Ma cos'è che li sto allungando Bellissimo però Guarda la decorazione Delle arance Ma volevo capire Cos'è che li ho allungato Ma cosa ho allungato L'unghio Ma non era un'unghia Ma ci vedi Ma se no Questo è come quello di Il livello dei sogni Attenzione Attenzione Ah questo è quello là Tipo mega Extra lungo Vai Dai Vai Via Devi tappare Zitto Cerca di prenderne di più Ok Occhio che poi Se capita qualcosa Che ti fa E nulla No vabbè Zitto 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 Occhio Zitto 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 Ok Devi guardare anche Lontano Perché no Hai perso un sacco Di unghia Ma se 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 no la ragazza Hai tagliato il dito all'ultimo stava finendo Aspetta aspetta che è successo Raga ma ti può partire la pubblicità mentre sei a infugnare che stai trovando Perché hai tagliato il dito Ma non ho tagliato il dito Ma che significa tagliare il dito Eh sei passata nel Perché stai aiutando un orso a buttarti giù da un ponte Rivivi rivivi aspetta Ne vale la pena Guardiamo la pubblicità ma rivivi Perché se no Perché sono morta Hai tagliato il dito Sei passata col dito sopra il seghetto Invece di stare dritta Hai girato Ok La riprendo Ah no No Ah lo stai volendo rifare Ma quando mai sono arrivata Niente ragazzi Rivivi per che cosa Per tua Hai perso Niente Ragazzi stavo facendo il capolavoro Dai capolavori Ma ti sei tagliato il dito Ma mi sono tagliato il dito Detto questo Non vi mandiamo un grandissimo bacio O non mi potrò mai aprire un salone di bellezza Delle unghie soprattutto Perché fai dei danni Pericolosa Pericolosissima E noi ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao Ma no Ma tu sei stato molto più fortunato Ma c'eri quasi No No Sei stato molto più fortunato No Basta Il gioco vuole che vinci tu Basta